Buongiorno, sono Andrea Bellavita e sono professore associato di cinema, fotografia e televisione presso il Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate. Insegno storytelling e forma del racconto mediale presso il corso di laurea in Storie e storie del mondo contemporaneo. È un corso di laurea di nuovissima attivazione che si occupa di studiare la contemporaneità in tutte le sue diverse sfaccettature, dal Novecento fino a ieri, anzi fino a domani. Il mio ambito di ricerca principale riguarda il modo in cui vengono costruite le grandi narrazioni contemporanee in tutti i mezzi di comunicazione. Il cinema, la televisione e sempre più spesso il web e l'ambiente digital. Tutte le volte che vedete un film in sala o più probabilmente in televisione, quando guardate una serie su Netflix o anche quando assistete all'ultimo post del vostro YouTuber preferito, in realtà non mi stanno soltanto raccontando delle storie, ma assistete a una vera e propria costruzione e ricostruzione della realtà. Questo è quello di cui ci occupiamo, studiare i meccanismi attraverso i quali, attraverso le forme del racconto, viene data una nuova dimensione interpretativa alla realtà. E lo facciamo con i professionisti, con persone che lavorano nell'ambito della produzione, nel mondo editoriale, nel mondo televisivo. Con quelli cioè che si occupano fisicamente e realmente di costruire storie. Il nostro obiettivo è quello di formare degli studenti più consapevoli, degli spettatori più consapevoli e non soltanto passivi e anche dei professionisti del futuro che sappiano utilizzare questi meccanismi e queste logiche in maniera responsabile e corretta. L'università è il luogo in cui si para guardare oltre sull'orizzonte. L'università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi.